È veramente con vero piacere che presento questa esposizione che abbiamo fortemente voluto per afforzare la consapevolezza di uno degli eventi più importanti della storia contemporanea del nostro Paese. Un evento, quello della liberazione di Roma, che non rappresenta solo una svolta decisiva nella sanguinosa lotta contro il nazifascismo, ma che ha anche un grande significato nel processo di costruzione della democrazia italiana.